Cari russi e cinesi, state in guardia, vi teniamo d'occhio. Con i primi passi che sta facendo, Biden toglie subito di mezzo un equivoco. Che un democratico alla Casa Bianca voglia dire un approccio soft, se non pacifico, con il resto del mondo. D'altronde, il Nobel per la pace a un Obama appena insediato fu più una maledizione che un viatico per l'ex capo di Biden. Che oggi ha davanti uno scenario più complicato dopo quello che ha combinato, e non ha combinato, Trump. Durante il suo mandato, l'affarista new yorkese non aveva affrontato Putin. Anzi, fin dall'inizio è rimasto impegolato in vicende oscure di spionaggio russo. Biden, invece, ha appena ordinato l'intelligence di indagare a fondo sulle infiltrazioni del governo di Mosca, mentre nel fine settimana il Dipartimento di Stato ha criticato duramente gli arresti di massa dei sostenitori di Navalny. Anche la Cina è avvisata. La sovranità di Taiwan non si discute. La nuova amministrazione ha reagito immediatamente al sorvolo dell'isola da parte di aerei da guerra di Pechino, facendo entrare nel mar meridionale cinese la porta aerei Roosevelt. Ostentazione di forza nelle corde del nuovo segretario di Stato, Blinken. Anche con i sauditi basta favoritismi dell'era trampiana. Sarà reso pubblico il rapporto della CIA sull'omicidio Khashoggi, che, come a suo tempo anticipò il Washington Post, per cui scriveva il giornalista saudita dissidente, inchioda il principe ereditario Bin Salman come mandante. E il rapporto con l'Europa dovrebbe migliorare, stando a quanto dicono i leader europei e lo stesso Biden, che però ha ripristinato il divieto di viaggi dall'Europa per il virus. E poi il suo intento di far vaccinare 100 milioni di americani nei primi 100 giorni di presidenza potrebbe creare problemi nella ripartizione degli ordinativi alle case farmaceutiche. E Pfizer è americana.